Buonasera e ben ritrovati con l'informazione sportiva di TRG in questo sabato 8 di febbraio. Calcio a Serecci in primo piano perché il Gubbio è atteso domani allo scontro salvezza con il Rimini, fissato per le ore 17.30 al Barbetti e valido per la giornata numero 25 del girone B di Serie C. Sono 11 punti che dividono le due squadre, 25 per il Gubbio appena fuori dalla zona play-out, 16 per il Rimini, ultimo da solo in graduatoria. Torrente perde Maini che rimarrà ai box per almeno un mese a causa di una lesione al Pube e conferma in gran parte il 3-5-2 che nelle ultime quattro partite ha recato in dote 10 punti. Davanti a Lavaglia spazia con Ate, Coda e Bacchetti, centrocampo da destra-sinistra con Cinaia, il rientrante Lacti dalla squalifica, Meghelaitis, Malaccaria e Filippini in attacco il tandem formato da Tavernelli e Juanito Gomez. Alternative in difesa all'assenza di Maini e lo scivolamento di Cinaia. Nel terzetto arretrato al posto di Conatè e l'inserimento di Mugnoz sulla corsia destra. Nel Rimini invece il tecnico Colella dovrebbe optare per il 4-3-1-2 con Letizia a supporto di Arlotti e Gerardi. Squalificato Palma ai box i vari Ferrani, Agnello e Candido a cui si è aggiunto l'ex Mendicino, mentre l'altro ex Paramatti può trovare posto in difesa. Arbitro di Gubbio Rimini sarà Antonino Costanza di Egrigento. Potrete seguire il match domani dalle 17.25 su RGMit Radio alla frequenza 93.8, sul canale 604 del digitale Terrestre, full streaming dal nostro sito www.trgmedia.it. Lunedì sera invece alle 21 fu TRG torna l'appuntamento con il salotto sportivo di fuorigioco. Ma sentiamo ora le parole di Vincenzo Torrente alla vigilia della sfida con la compagine romagnola. Come tutte le altre partite, Gubbio Rimini vale 3 punti però, mister, la partita di domani. Forse ha un significato ancora maggiore perché arriva un momento positivo per il Gubbio, perché è uno scontro diretto che si gioca in casa. Perché ora i punti, visto che ci avviciniamo verso la fase clou del campionato, forse contano un pochino di più, soprattutto in questo tipo di partite. Che gara si aspetta domani? Una gara difficile contro una buona squadra che ha fatto vedere già domenica delle ottime qualità. Mi riferisco alla partita a Rimini-Carpi dove hanno fatto un'ottima partita. Hanno cambiato tanto, hanno giocatori importanti, soprattutto in avanti. Quindi è una partita difficile, loro si giocano tanto, ma altrettanto noi. Aspetto dai miei una conferma, una continuità di prestazione e di risultati, senza cali di tensione, perché questa è una partita difficilissima, forse la più difficile di queste partite che abbiamo fatto. Dieci punti in quattro partite, cinque gol fatti, zero subiti, soprattutto essere riusciti a uscire indenni dal campo della capolista che sta legiferando in campionato. Cosa le è piaciuto di più di quest'ultimo periodo? Lo spirito di gruppo, la concentrazione, la determinazione, anche a livello tattico, sia in fase di possesso o non possesso, aveva fatto degli ottimi miglioramenti. La squadra la vedo crescere settimana dopo settimana. Adesso non si può più sbagliare, dobbiamo avere la mentalità di una squadra che va a giocarsela con chiunque, come abbiamo fatto a Vicenza, per tirarci fuori da questa situazione. Anche perché adesso il girone di ritorno, finito il mercato, le squadre si sono rinforzate. C'è un'altra mentalità rispetto all'inizio della stagione, dove si pensa all'estetica, adesso si pensa alla concretezza. Quindi altrettanto dobbiamo fare noi per far punti. Se è vero che in attacco dal mercato non è arrivato nessuno, è anche vero però che la condizione di Juanito Gomez è cresciuta, e si vede, e soprattutto credo mister, c'è questa crescita esponenziale di un classe 99, prodotto del settore giovanile del Gubbio, come Tavernelli. Una sorpresa, non so, però sicuramente un giocatore che si è dimostrato protagonista. Sì, è cresciuto tanto in questi mesi con me, sta facendo bene, mi dispiace che non riesce in questo momento a far gol, però fa un gran lavoro per la squadra, c'è un'ottima intesa con Juanito, ma poi abbiamo anche un'alternativa come Dubiscas, che è un giocatore che io conosco, un giocatore valido che sicuramente quando verrà chiamato in causa farà bene anche lui. Diciamo che due e più Dubiscas sono contento. Per chiudere, Maini resterà fuori per un po' per un problema all'inguine, una tegola sicuramente perché stava facendo bene, ma credo che anche tatticamente si continui su questa rotta. Sì, anche perché le cose vanno bene, perché questo penso sia il vestito giusto per questa squadra. All'inizio, quando sono arrivato, pensavo che questa squadra potesse giocare 4-3-3, quando mi sono reso conto che non era il vestito giusto, ho scelto di giocare in questo modo. Sto cercando di dare continuità a questo sistema, visto le caratteristiche dei ragazzi, anche perché anche il mercato pensavo di cambiare, ma questo non è successo. E diamo continuità a questo sistema. Poi durante la gara le cose possono sempre cambiare, variare, trovare altre soluzioni per cercare qualcos'altro. E scendiamo ora in Serie D, perché nel turno numero 23 il Foligno è atteso all'Eporaia per sfidare il fanalino di coda a tutto cuoio. Trasferta a Toscana anche per il Trestina a domicilio del Ponzacco. Il Bastia attende al Degli Esposti il Crosseto, duello casalingo anche per il Cannara che ospita allo Spoletini il Grassina. In eccellenza invece per il turno numero 21, sta di playoff anticipati la sfida fra Nestor e Sansepolcro, mentre il Lama prova a fare lo sgambetto all'annarnese capolista. Ponte Valleceppi riceve la Ducato, mentre cercano riscatto nelle zone basse sia l'Angelana, che avrà dinanzi uno scontro salvezza da non fallire con l'Ellera ultimo in classifica, che il Gualdo Casagastalda atteso a Castel del Piano. 21esimo turno in arrivo anche in promozione. Nel girone A il Branca Capolista ospita domani alle 14.30 al Santa Barbara Marra San Feliciano. Per l'inseguitrice principale Ventinella c'è la gara interna con la Pietralunghese ultima, mentre FC Castello attende Casa del Diavolo. Ponte Vecchio riceve Selcinardi, per la Tiberi Smacchia c'è il Piccione, mentre il Montone cerca il Blitz sul terreno del San Marco Juventina. Nel girone B il Massamartana primo della classe cerca ulteriori tre punti a Montefranco, per la Criturno c'è la Merina e il San Venanza impegnata ad Acquasparta al cospetto dell'MC98. Per la Visfoligno c'è la trasferta a Ternana con Romeo Menti, derby tra Giulia Spello Petrignano, Viole a Campitello e Atletic Bastia che riceve Olimpia Tairus. Ed ora passiamo al volley perché torna tra le mura amiche del Palabarton Sirza Feticonad Perugia. Dopo il blitz esterno in presettimanale a Vivo Valentia, i bloc Devils affrontano domani la Gas Sales Piacenza, incontro valido per la settima di ritorno di Superlega. Fischio di inizio alle ore 18 con i bianconeri del presidente Sirci che giocano per trovare la loro quattordicesima vittoria consecutiva in campionata e mantenere la prima posizione in classifica in coabitazione con Civitanova agganciata proprio mercoledì. Possibile ipotizzare come schieramento iniziale da parte di coach Einen il 6-1 che ha chiuso il match a Vivo con De Cecco Atanajevic in diagonale, Podrashkanin Ricci al centro, Lanza e Leon schiacciatori e Colaci a comandare la seconda linea. E ora spazio al basket con la Serie D maschile perché nell'anticipo della sesta di ritorno di campionato Emi Basket Gubbio riscatta l'ultimo capo casalingo subito con Virtus Terni ed espugna in volata 67-68 il parquet di rieti al cospetto della Babadook Foresta. Primo quarto super degli Eugubini avanti 11-23 ma nel secondo parziale è dominio reatino con i ragazzi di coach Boldini che legiferano per 28-12 chiudendo avanti di 4 punti all'intervallo lungo. Un distacco che rimane invariato al trentesimo visto il 13 pari del terzo quarto ma nell'ultimo parziale gli Eugubini di coach Spogli riescono a rimettere la testa avanti e di battere di un punto i laziali. Prestazione con i lustrini per il pivot Pettinacci, top scorer con 21 segnature e buon fatturato anche della guardia Maurizzi che mette a segno 17 punti. Gli Eugubini salgono così a quota 32 punti in classifica rimanendo sempre a stretto contatto con le prime della classe a Sisecannara e ora si prepareranno per la gara di domenica 16 contro Fara in Sabina chissata per le 18.15 alla Polivalente. E in chiusura ricordiamo che stasera alle 22.30 su TRG Nuovo appuntamento con Sport e Incontri, la rubrica Sport e Sanità con la USL di Magione e la palestra della salute. Inoltre i pronostici del calcio dilettantistico Umbro. Tutto dunque questo per quanto riguarda questo appuntamento con il TG Sport e dunque l'augurio è di una buona domenica a tutti voi.